Uno studio molto importante presentato al Congresso Europeo di Dermatologia, le ADV 2024, è lo Psoriatic Scalp, uno studio sulla psoriasi di fase 3B4. Ci facciamo raccontare perché era importante e i risultati principali dal professor Diamantaci, che ha presentato lo studio durante il congresso. Professore, ci racconta lo studio e che importanza rivestono i risultati? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.